Gli ho messo il guinzaglio senza problemi, non ci vede, si raggia anche malapena sulle gambe e soprattutto non ha i denti, non ha i denti e diventa difficile anche mordere. Sei cattivo? Sei molto cattivo? Sei estremamente cattivo? Mamma mia come sei cattivo davvero? Veramente un cane mordaccio, non ha neanche i denti, guardate, mi ha mai ridotto, mi ha tosato come una pecora. Cosa mordi? Che non ha i denti? Ma guardatelo, ma guardatelo. Non ci vuole mica un addestratore perché piove. Guarda cosa gli hanno fatto. Il telefono mangi amore, non stai neanche in piedi. Andiamo a casa, adesso andiamo a casa. Guarda cosa gli hanno fatto. 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 Grazie a tutti.